93 gli elaborati, ambiente, scuola, trasporti, temi più gettonati. Questi i primi numeri del Piemonte Visual Contest chiuso il 31 gennaio. La giuria si riunisce in settimana per scegliere i lavori migliori nelle categorie Infografica e Data Visualization. 8.000 euro in Monte Premi Complessivo, che verrà assegnato ai primi tre classificati di ogni categoria. Premi speciali assegnati anche da Talent Garden e da CSI Piemonte.